Buonasera e bentornati alla nostra ruota. Buonasera, la puntata di oggi riguarda il colesterolo e in particolare tanti falsi miti che si sono creati su quello che è il colesterolo, il colesterolo buono, il colesterolo cattivo, tanti dettagli molto interessanti che adesso lei ci spiegherà. E' un bel argomento, molto importante che sicuramente riguarda direttamente tanti dei nostri telespettatori. Due parole su di lei, semplicemente come facciamo sempre per chi non avesse seguito le altre puntate. Lei è medico chirurgo, esperto in medicina biologica integrata e anche noto proprio per la cura con il digiuno, per la digiunoterapia. Che è una tecnica afferente alla medicina biologica. Esatto. Allora, questo colesterolo. I luoghi comuni sono veramente tanti. Il primo luogo comune, l'ha già citato lei, esisterebbero due colesteroli. Peccato che la formula del colesterolo sia una sola ed è quella che si vede in sovraimpressione. C27H46 è uno che sta per ossigeno. Quindi vedete che il colesterolo è fatto da 27 molecole di carbonio, 46 molecole di idrogeno e da una molecola di ossigeno. Il colesterolo può essere soltanto questo signore qua. Non ce ne possono essere due. Quindi, già sfadato il primo mito. Allora, che cosa si interessa? Ecco, questa slide presa dal web ci fa capire come la gente viene forviata. Esisterebbe un colesterolo buono, che sarebbe l'angioletto, che si chiama HDL, e un colesterolo cattivo, che sarebbe il diavolino, il diavoletto, che si chiama LDL. Siccome di colesteroli ce n'è uno solo, c'è qualcosa che non va in questa slide. Che cosa non va? In realtà non va il fatto che sulle analisi cliniche si legga colesterolo HDL e colesterolo LDL. viene omessa una semplice parola, dovrebbe essere colesterolo legato alle HDL e colesterolo legato alle LDL. Allora la gente mediamente intelligente si porrebbe il problema, che cosa sono le HDL e che cosa sono le LDL? Giusto? Lei che penserebbe? Se avesse letto legato alle, si chiederebbe che cosa sono le HDL, che cosa sono le LDL? Sono delle lipoproteine. HDL sono lipoproteine a bassa, ad alta densità, e le LDL, lipoproteine a bassa densità. Queste lipoproteine, come dice la parola stessa, sono delle grosse macromolecole, delle macromolecole, delle grosse molecole, che contengono sia dei lipidi, lipo, sia delle proteine. I lipidi sono il colesterolo, gli trigliceridi e i fosfolipidi e poi ci sono delle proteine. Quindi non si tratta di colesterolo, ma si tratta di ammassi dove ci sono tante componenti. Poi, che le LDL siano più pericolose e le HDL siano più pericolose, ma stiamo parlando di pericolosità non del colesterolo in sé, ma delle macromolecole definite lipoproteine. Quindi, poverello, il colesterolo già l'abbiamo un po' salvato, perché la gente pensa che sia colesterolo. HDL è colesterolo buono e LDL è quello cattivo. Non è così. Ecco, lei che mi racconta se si mettesse nei panni del paziente che ha capito adesso che c'è qualcosa che non va? Lei come utente, che le avrebbe da dire? Intanto vorrei capire perché uno viene poi, semplicisticamente, definito buono e l'altro cattivo, no? Beh, è una questione legata alle percentuali della macromolecola, no? E quindi, per conto mio, quello che fa veramente la differenza è la quantità di assunzione delle proteine animali. Poi la gente fa tanta differenza anche tra proteine e grassi, ma spessissimo, quando si parla di proteine animali o di grassi animali, è sempre un ammiscuglio tra proteine e grassi. Prendiamo il parmigiano. Che cos'è il parmigiano? È un grasso o una proteina? Mi sta intervistando. Eh sì, per forza, devo girare la frettata. No, no, è una domanda retorica, era una domanda ovviamente ovvia perché tutti sanno la risposta. Il parmigiano contiene grandi quantità di proteine e grandi quantità di grassi. Quindi spessissimo noi mangiando, dice, proteine animali, mangiamo anche tanti grassi animali, perché è tutto insieme. Quindi quelle proteine LDL, quelle che si definiscono le lipoproteine cattive, sono in genere fatte risalire a un'alimentazione scorrettissima. E' eccesso e abuso di prodotti animali, di proteine e grassi animali. Questo è il concetto di fondo. Poi un'altra cosa che ci tenevo a dire, e che pochi sanno, è che la parte endogena del colesterolo, cioè quanto ne produciamo noi, è tra il 70 e l'80%. Non ce lo dobbiamo dimenticare questo. Non ce lo dobbiamo dimenticare, no? Tanta gente dice, ma io non mangio questo, ma io non mangio questo, ma io non mangio questo. Allora si capisce che l'origine è un'altra, che non è alimentare o esclusivamente alimentare. E si comincia a capire che il colesterolo ha anche una valenza antiossidante di protezione del corpo. Perché il colesterolo è una molecola di importanza fondamentale per il nostro organismo. Il concetto dell'ossidazione corporea, quindi radicali liberi, eccetera, noi dobbiamo difenderci da questa produzione abnorme di radicali liberi, che sono come dei colpi di pistola che le cellule sparano all'improvviso, continuamente tutto il giorno, e che se sono tanti possono ossidare il nostro corpo. Il corpo ossidare significa immecchiare, no? E quindi c'è necessità da parte dell'organismo di trovare soluzioni antiossidanti, di mantenersi non ossidati. C'è il cosiddetto pool degli antiossidanti, che è fatto da fattori tipo l'ubichinone, il coenzima A, eccetera, e dalle vitamine. Noi ci difendiamo in prima istanza dall'ossidazione corporea con queste sostanze qui. Quando non bastano, entra in campo anche il colesterolo. Quindi il colesterolo delle persone che non mangiano grassi animali, non mangiano proteine animali, che fanno una vita sana, eccetera, e hanno un colesterolo alto, ha questo significato qui. Ecco, questi sono i benefici del colesterolo, alcuni dei benefici del colesterolo, se si legge in sovrimpressione, è un costituente fondamentale innanzitutto delle membrane cellulari, ha un'azione altamente antiossidante e antiradicali liberi, l'abbiamo appena detto, è un precursore della vitamina D, è un precursore degli acidi biliari, è un precursore degli vari ormoni, in primis gli ormoni steroidei e sessuali, testosterone, estrogeni, progesterone, eccetera, è fondamentale per la corretta formazione del feto nel grebo materno, è di fondamentale importanza per il nostro cervello, che ne richiede una quota pari al 25% per garantire la sua efficienza. Noi possiamo demonizzare questa molecola? No, siamo nel mondo della medicina biologica, no? Noi stiamo parlando di medicina biologica. Se il Padre Eterno ha fatto questa molecola, un motivo ci sarà. Quindi si devono preoccupare sicuramente di più quelli che hanno una quantità di colesterolo alto per colpa dello stile di vita e quindi quando è quello esogeno che è alto. Quindi se è una peculiarità della persona, in realtà non rappresenta una fonte di rischio. No, rappresenta una fonte di rischio ma non in quanto molecola del colesterolo. In quelli che ce l'hanno alto pur senza mangiare male, bisognerebbe chiedersi perché ho bisogno di tutto questo colesterolo per difendermi? Ho capito, quindi può essere in atto un'infiammazione. Un'infiammazione per essere in atto uno stato di eccessiva ossidazione corporea, no? Tanti radicali liberi, come dicevo prima. Perciò il colesterolo bisogna... Una curiosità, dottor Simone, c'è anche chi ha il colesterolo più basso di quello che viene indicato come il minimo? Quelli non stanno tanto bene. Non va bene, di solito però nella medicina tradizionale, visto che oggi parliamo di medicina biologica, definisco quella più conosciuta in questo modo, non si preoccupa. Sai come la chiamano in Germania? School medicine, medicina scolastica. Noi dovremmo usare anche noi questo termine. La medicina scolastica è quella medicina che ti hanno insegnato nell'arco dei 6-7 anni di scuola che hai fatto all'università, tu ti laurei e sei un medico scolastico, nel senso che hai fatto la scuola e poi vero medico si diventa dopo. Ecco sì, questa è una interessante osservazione. L'osservazione. Tornando a chi ha il colesterolo più basso del valore che poi bisognerebbe su un altro capitolo sugli esami del sangue. Ammettiamo che una paziente mi chieda questa cosa qui, dottore io ho il colesterolo a 140, lei che cosa mi dice dottore? Io che cosa rispondo? Rispondo, cara paziente, lei si sente in forma o no? Lei si sente bene o no? Lei si sente integra o no? Si sente vitale o no? Si sente bene da un punto di vista psicofisico o no? In base alla risposta che la persona mi dà, io do il mio giudizio, nel senso che se la persona mi dice dottore io sto in perfetta forma, risponderò, sia tranquilla, vada tranquilla, non si ponga il problema. Se invece la signora mi dice che non sta bene, allora dico lasci perdere il concetto del colesterolo, pensi prima a ritrovare la sua integrità di essere umano, da tutti i punti di vista metabolico, energetico, costituzionale, nutrizionale e poi penseremo al colesterolo. Non so se sono stato un po'… Si, si certo, è un concetto che ha già espresso diverse volte nella rubrica. Però non è mai… è sempre bene ripeterlo. Ripetelo sì. Allora, volevamo sfatare dei miti sul colesterolo, oggi abbiamo già iniziato con una serie di cose, le chiedo, la placca di colesterolo. Allora, il primo mito, il primo falso mito è che ce ne sono due e l'abbiamo sfatato. La placca di colesterolo sarebbe… dunque la placca di colesterolo che è quella cosa che è pericolosissima, che manda a quell'altro mondo tanta gente perché chiuderebbe le nostre arterie, no? Ecco, la placca di colesterolo innanzitutto non è fatta di colesterolo, ma è fatta di lipoproteine, dicevamo prima, no? Quindi, intanto sfatiamo che la placca sia fatta di colesterolo, perché la placca è fatta proprio da quelle macromolecole di cui abbiamo parlato prima, di lipoproteine. Secondo mito sfatato, la placca non è di colesterolo, ma di lipoproteine. Terzo mito sfatato è che la placca non si attacca alle pareti delle arterie, perché non si può attaccare alle pareti delle arterie, perché le pareti delle arterie sono estremamente fluide, estremamente viscose, basta toccarsi con la lingua, la guancia interna per capire com'è fatta un'arteria dentro e qui di sicuro non possiamo attaccarci niente, neanche meno dei grassi. E quindi la placca si crea nello spessore della parete dell'arteria, non si attacca alla parete. Qui è molto chiaro, vedete dove c'è il giallo? Ecco, se si può mettere insomma in pressione un po', ecco, dove c'è il giallo? Quello è la placca, vedete che non è attaccata alla parete delle arterie, ma si forma dentro la parete dell'arteria. La parete dell'arteria è fatta da tre tuniche, una si chiama esterna, una media e una interna. Tra l'interna e la media si addensano, si assommano tutte queste sostanze di cui parlavamo prima, grassi, proteine, le lipoproteine e lì piano piano, mese per mese, anno per anno, si va a formare questo agglomerato che noi chiamiamo ateroma, che è la placca e che quindi non è attaccata alle pareti dell'arteria. Terzo mito sfatato, soltanto che questi miti qui, questi falsi miti, stanno rovinando la salute a tanta gente, perché se si parte da paradigmi sbagliati o inventati ad arte, poi dopo si va a finire male. Tant'è vero che la percentuale di persone che si ammalano sull'apparato cardiovascolare aumenta sempre di più, nonostante tutti i fantastiliardi di miliardi di dollari spesi per la ricerca negli ultimi 60-80 anni. Allora ci dovremmo fare una domanda, ma come mai? Più si studia e più si sta male, perché il punto di partenza è sbagliato, si fa la guerra colesterolo, ma non è quello il problema. E quindi in pratica non basta occuparsi dell'alimentazione, giusto? È questo che è importante da sottolineare? L'alimentazione quando è eccessivamente portata verso grassi e proteine animali è un'alimentazione completamente sbagliata. Su questo no, diciamo che in parte quindi l'alimentazione conta, però non è solo questo. Quindi chi soffre di problemi che lui considera legato al colesterolo, comunque chi ha degli esami… Dovrebbe farsi la domanda, ma questo colesterolo lo produco io oppure lo mangio o tutte e due? Ok, quindi questo è una cosa importante. Il medico dovrebbe essere in grado di indicare uno stile di vita ideale per quella persona dopo aver capito che cos'è che non m'ha. E questo sta al dottore, non sta al paziente. Il paziente è paziente, deve pazientare. E quindi soltanto che adesso che si fa? Il medico non risale più alle catene causali. Oggi non si risale, non si fa medicina causale, non si risale alle catene causali. Da dove viene il problema? Oggi si dà una pillola. Eh certo, infatti la medicina scolastica, come la definiva lei prima, è spesso una medicina sintomatica che si occupa del sintomo, che cerca di far regredire il sintomo. Però può succedere a volte, quando si ha questo tipo di approccio, che il sintomo regredisce e poi il problema salta fuori in un'altra forma. Esatto. Esatto. Ecco questa poi, di solito ne parlavamo nell'introduzione, adesso potremmo fare invece una considerazione finale, è proprio l'importanza della medicina biologica, che poi è quella che trattiamo in questa rubrica. Uno dei capisalti della medicina biologica è di saper risalire alle catene causali. Se tu non risali alle catene causali, non potrai mai curare in modo causale il paziente. Dovrai ricorrere a una pillola sintomatica. E questo riguarda tutte le malattie. Esatto. Infatti riguarda il colesterolo, di cui ho le lipoproteine, o insomma l'argomento di cui abbiamo trattato oggi, riguarda la tiroide, che è l'argomento della puntata precedente, riguarda il diabete 2, che è un'altra tragedia mondiale, o forse anche universale, non sappiamo se gli extraterrestri hanno il diabete, però potrebbero averlo anche loro, ed è una tragedia veramente universale, perché il diabete 2 si cura con una certa facilità, facendo leva sull'intelligenza del paziente, sulla sua disponibilità a cambiare delle carte in tavola, il diabete 2 si cura con lo stile di vita, non dando delle pasticche. Le pasticche le dai nel momento in cui il paziente non collabora più, non ha mai collaborato, allora ti tocca prendere la pasticcia per tutta la vita. Stessa cosa per l'ipotiroideo, lì deve cambiare lo stile di vita e si guarisce facilmente, ma se il paziente non collabora, sarà costretto a prendere la pasticchina tutta la vita. Tra l'altro riguarda un altro, chiamiamolo fenomeno, che non è una malattia, ma che riguarda tutti e che può essere affrontata nel migliore dei modi, che è quello del naturale invecchiamento, in realtà si può invecchiare bene o invecchiare male. Non parleremo anche di questo proprio approfonditamente in una puntata? Beh, assolutamente sì, perché questa è la cosa a cui tengo di più, l'arte di non invecchiare mai, né di fisico né di testa, è bellissimo. Una delle cose che come medico mi dà più fastidio è vedere le persone, come persone e come medico, come vedere le persone che piano piano, giorno per giorno, impercettibilmente immecchiano e l'energia vitale piano piano scende e la gente immecchia male, aiutati anche dalle tante medicine che prendono. Ci sono persone che prendono 4, 5, 6, 7, 8, 10 farmaci al giorno e c'è un effetto collaterale che sul bugiardino non è scritto, perdita giornaliera di energia vitale, non c'è scritto. Però la gente, ed è tristissimo vedere queste persone anziane che piano piano vanno giù, io vorrei fare qualcosa di… nel mio piccolo cerco di invertire la rotta della vecchiaia, perché si può fare. Ci racconterà come in una prossima puntata. Grazie dottor Salvatore Simeone. Grazie a voi. Grazie ai nostri telespettatori. Ci rivediamo presto. Grazie ai nostri telespettatori. 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 Grazie a tutti.